La criminalità ha il campo più facile, noi stiamo lavorando per avere un'azione di rilancio della legalità e di riqualificazione dei quartieri che sono due cose strettamente collegate, e qui d'altronde proprio gli interventi della Regione Lazio che Nicola Garetti stava ricordando sono stati molto importanti, a partire anche dal sito degradato, è stata compiuta una bonifica, la palestra della legalità e tanti altri interventi. Anche su questo, sinergia, collaborazione, sono molto importanti. Vorrei ricordare che noi abbiamo proprio ieri approvato in giunta l'istituzione del forum, per esempio sui beni confiscati dalla mafia, atto che attendeva da tempo, vogliamo anche su questo fronte, insieme alla Regione Lazio, rafforzare l'attesa e il lavoro per la legalità e per i cittadini.